La gamma della Fiat 500 per gli Stati Uniti si allarga con l'introduzione della 500C. La versione scoperta riprende le modifiche introdotte a suo tempo sul modello a tre porte. Come sulla versione europea, invece, la capote può essere aperta parzialmente anche in movimento, fino a una velocità di 60 miglia orarie.